Ciao a tutti, sono Tommaso Faglia, insegnante di contrabbasso e basso elettrico per la scuola Piave di Basso. Vi invito a seguire il mio corso presso le nostre sedi, tra cui quella nuova in via del Fosso Macinante 9 e di seguito potete trovare i contatti per iscrivervi. Ciao a tutti!